Oggi lo abbiamo visto, è una giornata eccezionale nella storia della Chiesa. Benedetto XVI alle 8 di questa sera rinuncia al pontificato. Per questo si è trasferito dal Vaticano a Castel Gandolfo. Momenti di intensa commozione che vogliamo rivivere in questo breve filmato curato da Sara Lucaroni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.